Oggi conversiamo con Marco Amerighi del tema della settimana della lingua e cioè l'italiano dei giovani e la letteratura. Questo è perlomeno l'ambito generale nel quale ci si muoverà la nostra conversazione. Marco Amerighi che ringrazio della disponibilità per fare questo collegamento con noi. Grazie Marco. Grazie a te è un piacere. È l'autore di un romanzo dal titolo Randaggi edito l'anno scorso dalla casa editrice Bollati Boringhieri con il quale è stato finalista al premio Strega l'edizione di quest'anno e in quella occasione abbiamo avuto il piacere di averlo ospite sempre online dell'istituto per discutere del suo romanzo, per presentarlo. È un romanzo come sa chi l'ha letto e chi segue le nostre iniziative, un romanzo con aspetti di attualità, ambiente studentesco, Erasmus a Madrid, una certa indeterminatezza esistenziale dei personaggi, tutte componenti che rimandano quindi ad un romanzo generazionale in qualche modo, anche se il libro di Marco Amerighi è anche molto altro. In questo senso volevo chiedere, la prima domanda che vorrei fare all'autore è il tuo romanzo è molto connotato in senso generazionale dal punto di vista dei contenuti e abbastanza poco tutto sommato da quello della lingua, a parte qualche punto, ad esempio la conversazione tra i due fratelli, Tommaso e Pietro, quando il primo, il più grande, chiede al secondo se abbia avuto un'esperienza sessuale, usa una serie di termini che sono termini che si collocano sicuramente nell'ambito di un gergo giovanile, oppure gli inserti di testo che simulano il linguaggio sintetico e l'ittico degli sms. Ecco, a parte questi episodi linguistici, sostanzialmente sia i dialoghi tra i personaggi, sia la descrizione, perché la narrazione è in terza persona, sono resi in un italiano standard e volevo chiederti qual è la tua posizione rispetto alla prassi piuttosto diffusa nella letteratura italiana contemporanea della riproduzione del parlato nella narrativa. Tu appunto, come dicevo, lo fai in maniera minima, il minimo indispensabile per rendere i dialoghi non artificiosi, ma non mi sembra che ci sia un orientamento specifico nei confronti del parlato giovanile, pur essendo il tuo un romanzo che parla di giovani. Sì, è una bella domanda che sottintende una questione molto importante che io sento molto, sulla quale mi sono poi interrogato anche in altre cose che ho scritto. Ho fatto una scelta per questo romanzo, che è un romanzo che ricordo è raccontato in terza persona e quindi la terza persona ha una capacità di guardare dall'alto questa generazione, ma anche i tempi, gli eventi e di rifletterla. E io come volevo rifletterla? Ero consapevole della scelta che avevano fatto alcuni autori italiani, penso per esempio a Pasolini, a tanti lavori di Pasolini che ha avuto un'idea del parlato giovanile e della letteratura mimetica, quindi per lui era importante calarsi in quel contesto, parlare come parlavano quelle persone e non soltanto a dimostrazione del fatto che lui conosceva quel tessuto sociale, ma anche come presa di posizione politica, no? E quindi non mi rivolgo alla schiera degli intellettuali, ma mi rivolgo anche a loro, no? Questa è un'operazione che negli anni altri scrittori hanno provato a attualizzare, per esempio penso a Walter City, no? Negli anni 90 quando ha portato in Italia l'autofiction, lui ha riprodotto la parte più grottesca delle borgate, i temi dell'omosessualità, del culturismo e a leggere i libri di Walter City si prova una sensazione diversa da quella di Pasolini, quasi un iperrealismo, è talmente reale, sembra proprio una sbobinatura che potremmo sentire su un tram o in giro per strada, però quando lo leggiamo su una pagina letteraria risulta così reale da quasi quasi risultare fittizio, può essere controintuitivo, no? Però chi ha letto City ha ben presente di che cosa parlo, cioè la realtà presa e messa su una pagina non necessariamente porta ad una vicinanza sia emotiva che sociale con quello di cui stiamo parlando. E allora io mi interrogavo appunto e mi chiedevo che cosa volevo fare e a chi volevo parlare. Io volevo muovermi tra due binari, da una parte una narrazione classica che aveva proprio nei modelli, alcuni modelli strutturali classici, il romanzo di formazione alla Flaubert, alla Dickens, eccetera, però volevo raccontare, come dicevi, delle istanze e dei movimenti moderni. E allora mi sono mosso attraverso questa terza persona che rammentavo prima su una lingua più che altro letteraria, una lingua che permettesse a chi leggeva questo libro non soltanto di trovare il mondo giovanile o di trovarlo, ma trovarlo riflesso con una lingua che non fosse appiattita sul presente. È una parola un po' forte, appiattita sul presente, non voglio dire che non esistano sfumature di profondità, ma soprattutto in un mercato editoriale come quello attuale, spesso tanti autori, tante autrici sono più preoccupati dal restituire una trama, una storia, magari soprattutto se è contemporanea, con solo gli strumenti del contemporaneo. Invece uno scrittore, secondo me può allargare la vista, può portare sulla pagina anche in un certo senso delle espressioni, delle parole che sembrano venire d'altrove, ma che poi calate in questo contesto invece aggiungono qualcosa in più. Questo penso sia un pensiero che ho sempre avuto, cioè non voglio insegnare niente a nessuno, sono un romanziere, però credo che anche ai giovani sistemi si debba parlare con grande complicità e complessità, non quindi andando a cercare una semplificazione, tutt'altro, provando invece a proporre dei sistemi, se non nuovi, per l'appunto complesso. Certo, è interessante questa tua notazione che l'eccesso di mimetismo, o comunque un mimetismo portato alle sue estreme forme, il mimetismo linguistico, può trasformarsi da realtà in iperrealtà e sappiamo bene che l'iperrealtà non coincide con la realtà, quindi può esserci forse addirittura ampliato questo senso di artificialità. In questo senso ha maggior ragione se colui che scrive non appartiene veramente al contesto linguistico che cerca di riprodurre nella pagina. Comunque si tratta di trattamenti diversi della naturalità linguistica che ogni scrittore naturalmente decide, risolve nello stesso modo. Penso che anche un altro elemento di difficoltà oggi nello scrivere, nell'assumere dentro la pagina letteraria il gergo giovanile, sia quella che forse di gerghi giovanili ne esistono a questo punto molti che sono condizionati dall'appartenenza regionale, ma anche dall'appartenenza sociale. E poi c'è un altro fenomeno su cui volevo chiederti appunto come percepisci, come lo percepisci, che è questo, che ormai se si cerca di indagare qual è il gergo giovanile dominante, il linguaggio giovanile dominante, si finisce col riconoscere il dominio degli anglicismi. Cioè il modo di esprimersi tra giovani è molto condizionato dall'acquisizione dei degli anglicismi, che sono sia attinenti alla sfera della comunicazione in forma elettronica, tutti ormai dicono, non solo i giovani, ma soprattutto i giovani, chattare, forwardare, followare, eccetera, e poi ci sono anche altre introduzioni linguistiche tipo frienzonare, triggerare, che sono tipiche appunto del linguaggio giovanile, anzi direi che le capiscono bene soltanto persone molto giovani, ma nello stesso tempo è come se fosse venuto meno quella capacità di identificazione di un gruppo di parlanti in quel modo, poiché sono dei termini ormai internazionali, diciamo attraverso quel tipo di parole può riconoscersi un giovane italiano con un giovane russo, perché esistono gli stessi termini in russo, diciamo, modificati secondo la struttura linguistica russa. Ecco, quindi c'è anche questo fatto che ormai il linguaggio giovanile, essendo molto legato a questo tipo di fenomeno, forse è anche più difficile da riportare su una pagina letteraria di quanto non fosse il romanesco di Pasolini o di Siti, cosa ne pensi? Eh sì, è interessante anche questa questione, tu tocchi un nervo veramente nel veralgico della questione quando parli di identità, io penso che sia proprio una caratteristica della nostra contemporaneità e quindi è giusto abbinarla a un ragionamento così complesso sui giovani. Voglio dire, mai come oggi, è come se in un certo senso ci sentissimo scissi fra da un lato un desiderio di appartenenza, quindi di trovare una collocazione ben definita di chi siamo, dove siamo, a quale gruppo apparteniamo. Dall'altra è il vettore opposto, cioè siamo mossi invece verso un desiderio che negli ultimi anni è stato chiamato fluidità, però veramente più che andiamo avanti, più che fluidità si parla proprio di trasformazione, di metamorfosi, un dibattito che riguarda naturalmente il genere, il corpo, la sessualità, ma molto di più quello che tu diciamo ci fa intuire che è anche una trasformazione nel linguaggio e io credo anche che non esista una stagione della vita nella quale ci si senta più in contrasto anche con i modelli che abbiamo ricevuto come la giovinezza e quindi è naturale da un certo punto di vista pensare che tutto quello che sta accadendo sta accadendo attraverso le nuove leve, le nuove generazioni e la loro permeabilità al mondo anglofono, che da sempre in un mondo globalizzato come questo negli ultimi 50 anni è stata la cultura egemone e lo è anche dal punto di vista linguistico naturalmente. Poi provo anche a vedere questo pericolo, diciamo così, di dominanza come invece uno strumento democratico, perché penso per esempio, se è vero forse il discorso che facevi sulla difficoltà di tradurlo su una pagina senza risultare troppo artificioso, estremamente mimetico e quindi iperrealista, dall'altro ci sono per esempio degli strumenti espressivi che ne hanno tratto beneficio e hanno allargato anche il loro pubblico. Penso per esempio al mondo della musica, soprattutto con la musica rap, che è qualcosa che in Italia noi abbiamo importato dal mondo statunitense e abbiamo coverizzato, per usare una parola che potrebbe essere entrata e che è sicuramente entrata nell'uso comune. e facendolo però che cosa è successo? Che si è creata una lingua che tutti potevano gestire e attraverso la quale potevano raccontare. Penso per esempio al fatto che il rap sia molto sviluppato soprattutto nell'ambito carcerario, uno degli ambienti più difficili nel quale entrare, come scrittori, come intellettuali, come docenti. Il rap invece ha funzionato, è stato proprio la chiave attraverso il quale lo testimoniano i tantissimi laboratori che per esempio musicisti svolgono con ragazzi e ragazze detenuti. Ecco là dentro, dove esiste una grande, ora non voglio dire una predominanza, ma ci sono moltissimi immigrati che non possiedono la lingua dell'italiano standard attraverso questo nuovo impasto linguistico pieno di anglicismi, ma anche poi con parole di ritorno, quindi l'egiziano che mescola un italiano se vogliamo ancora un po' stentato con la sua lingua madre, con l'inglese e tutto questo in un impasto che in un certo senso unisce tutto questo mondo del rap perché si tratti di un ragazzo o una ragazza albanese o un magrebino o un italiano oltre a questo si aggiungono le sfumature dialettali. Ecco quindi voglio dire che io penso sempre che questo sia forse davvero il lato più democratico della lingua la sua capacità di rimodellarsi e di trovare delle strade che a volte qualcuno forse soprattutto in ambito accademico vede più come un rischio, ma ci sono anche dei momenti in cui può essere una possibilità. Quindi io guardo con curiosità ecco a questi fenomeni pur essendo consapevole che non sono in prima battuta l'artefice di questo cambiamento ma forse più un osservatore. Molto interessante questo terreno, questi nuovi terreni dell'ibridazione linguistica, è molto interessante seguire quali sono, dove si svolgono in primo luogo ormai queste ibridazioni. Forse la letteratura non è più il campo o forse non è neanche mai stato il campo privilegiato di questi esperimenti. Senti, volevo chiederti, nel linguaggio tutto sommato diciamo di italiano letterario nel quale si muove la tua narrazione, ogni tanto il lettore si imbatte letteralmente inciampa in termini che perlomeno questa è la mia personale esperienza, di cui non sa il significato e che come dire spiccano in un tessuto invece del tutto comprensibili. Ti faccio qualche esempio dal tuo, tratto dal tuo libro, scangeo, sgallemarsi, caona, sono parole che il cui significato non è ovvio, qualche volta si capisce dal contesto, qualche volta nemmeno, oppure espressioni comprensibili ma non del tutto canoniche diciamo come un fazzoletto impolpato d'acqua. Ecco, da dove derivano questi termini e perché hai sentito il bisogno di spiazzare un po' il lettore, usandoli in un contesto che non li prevede, sembrerebbe non prevederli? Ma guarda, mi ricollego a quello che dicevo all'inizio sulla mia passione ma anche il desiderio di scrivere un romanzo classico che raccontasse dei tempi moderni e questo era il mio secondo romanzo e io in un certo senso mi volevo mettere alla prova, volevo capire che tipo di scrittore fossi e questa è una domanda che mi sono fatto spesso e la risposta l'ho trovata dove la trovo altrettanto spesso, cioè nei libri, in quegli autori, quelle autrici che per me erano stati particolarmente significativi. In questo caso sto parlando dei grandi del Novecento Toscano che vanno da Anna Avanti a Vasco Bratolini a Romano Bilenchi ma ancora prima a Federico Tozzi che erano tutti autori e autrici che in un certo qual modo avevano provato a raccontare i loro giovani giovani un po' sperduti in conflitto con i genitori che desiderano partire e poi guarda caso non partono mai c'è una distanza naturalmente sociale e storica molto grossa rispetto invece alla mia generazione che con 9,99€ poteva partire l'altro capo dell'Europa con un volo, altro modello economico che adesso è arrivato alla fine. E quindi io rileggendo questi autori mi sono accorto che là c'era una prosa che in un certo senso nella letteratura contemporanea avevamo un po' dimenticato, si era un po' addormentata. Sto parlando di una lingua molto più densa, più fitta, con una grana che in un certo senso restituiva qualche cosa che io non vedevo più e allora sono partito in un certo qual modo saccheggiando questi miei autori preferiti e penso per esempio uno dei primi testi che mi aveva colpito era Il gelo di Romano Bilenchi, un autore fiorentino, ad un certo punto sta descrivendo un tramonto, lui è uscito di casa e diceva appunto che le strade si immiserivano. Ed è esattamente una, tra virgolette, una forzatura che tu ravvisavi un po' prima anche nella mia prosa. È chiaro che cosa sta dicendo, no? Stanno perdendo colore, le strade, poteva dire semplicemente che diventavano più buie e invece usa un sostantivo che è miseria trasformandolo in verbo e dotando la frase di uno spessore diverso, alzandola anche naturalmente, no? Di registro. E quindi sono partito da questo e poi il gioco mi ha un po' preso la mano perché è come se in un certo senso anch'io volessi aggiungere del mio, volessi provare a fare queste piccole alzature, abbassature, perché il bello della lingua è anche appunto la capacità di oscillare fra l'alto e il basso, no? E quindi ecco mi sono un po' lasciato andare, alcuni termini li ho usati magari in maniera leggermente impropria perché brividio, che viene da un linguaggio più aulico, più poetico, a me racconta di un brivido molto più forte, anche emotivamente, qualche cosa che ti sconquassa dalla testa fino ai piedi, allora perché non usarlo per un ragazzo che è in tensione, per un provino per lui molto importante? E da lì ecco ho fatto degli incroci, ho saccheggiato anche dai dizionari toscani, prendendo termini dal Via Reggino, dal Fiorentino, dal Lucchese, è una zona molto molto vicina, ma stupisce la distanza in realtà anche linguistica di come i termini cambiano, cambiano a seconda di dove sono nati e poi è dell'uso che ne si è fatto e allora si scoprono anche tante cose che magari un lettore leggendo non rintraccia, percepisce però secondo me qualcosa, capisce una complessità, una ricerca e poi basto io in un certo senso a sapere che un termine sciabigotto nasce a Lucca con Napoleone che sta promulgando quel famoso editto che Foscolo poi riporta nei sepolcri, vale a dire di costruire cimiteri fuori dalle mura e la folla di fronte al Palazzo Ducale di fronte a questo editto rumoreggia e Napoleone li appella sciabiga o sciabiga e questo termine poi ruzzola fino a Via Reggio dove esiste una particolare rete molto lunga e anche in alcune zone d'Italia si usa lo stesso termine che è sciabiga o sciabiga, quindi se i lucchesi erano poveracci, nel senso che non potevano capire quanto era importante invece quell'editto napoleonico, la sciabiga invece è una rete lunga che usano i vecchi che percepiscono gli invalidi, quindi i pensionati, i vecchi marinai che non hanno più la forza di stare su una nave e pescare in mare aperto ma fianco a fianco, spalla a spalla, tirano dalla spiaggia una lunga rete per andare a pescare che cosa? I rimasugli del mare, quel piccolo pesce che può servire diciamo per mettere insieme il pranzo con la cena e allora diventa un poveraccio molto più degno, molto più umano, molto più ricco di sfumature. Per fare il giro, sempre per raccontare come poi le parole passano dall'alto al basso ma in un certo senso trovano poi la loro armonia. C'è stato un politico italiano famoso soprattutto per indossare delle felpe con delle scritte che è arrivato a Viareggio per una campagna elettorale, guarda caso è stato appellato con nome del politico virgola sciabigotto. Come a dire che questo sarà un termine che si troverà nel romanzo, il lettore magari non percepirà esattamente tutta la sua portanza, però penso che ci sia bello da parte diciamo così di uno scrittore ma anche da chi è sensibile ai cambiamenti della lingua, sapere che la lingua poi tutto sommato non è morta e anche le cose che abbiamo dimenticato basta poco per tirarle fuori dalla polvere e trovare loro una collocazione che sia degna. Sì sono tutte cose estremamente interessanti, non vorrei essere al posto del traduttore che dovrà sottotitolare il nostro video ma sono sicura che se la caveranno in qualche modo. Marco allora ti ringrazio moltissimo di queste tue considerazioni sulla vitalità dell'italiano letterario, l'italiano letterario si evolve, si muove, diventa qualcos'altro anche grazie all'apporto che ciascuno di voi dà all'arricchimento della lingua della letteratura. Grazie mille e a presto. Grazie a te, grazie a te Daniela, a tutti quelli che ci ascoltano. Oggi conversiamo con Mario Desiati che abbiamo già avuto ospite in occasione della finale del premio strega a cui partecipò allora durante quella fase come finalista e poi fu premiato con il, vinse il premio e dunque ci ricordiamo con particolare piacere di quella conversazione alla quale io mi vorrei riallacciare Mario per cominciare appunto questo nostro colloquio che è legato alla circostanza della settimana della lingua italiana nel mondo e che ci porta a parlare appunto di linguaggio, scrittura, scrittura sui giovani, linguaggio dei giovani. Cercheremo di tenere insieme un po' tutte queste componenti e vorrei cominciare con il chiederti diciamo che quando si parla di letteratura, soprattutto di letteratura contemporanea, si tende forse a privilegiare l'aspetto contenutistico strutturale della narrazione e l'aspetto linguistico non sempre viene messo in adeguata luce. Ecco, io ricordo che nella conversazione che avevamo a giugno tu dicesti che ti era costato molto molto lavoro trovare per questo tuo romanzo, poi vincitore del premio, spatriati, ti era costato molto lavoro trovare la tonalità giusta, che avevi molto lavorato intorno alla ricerca della tonalità di discorso del tuo protagonista narrante. E volevo chiederti, alla fine quale hai voluto che fosse il tuo stile e quanta di questa difficoltà era legata alla scelta del registro linguistico? Guarda, sicuramente il lavoro che attraversa ogni scrittore prima di scrivere una storia è la ricerca della voce. Per me è la parte più difficile quando si scrive un libro, perché magari si possono avere tantissime cose da raccontare, personaggi accattivanti, vicende piene di pathos, ma a un certo punto invece non sai come raccontarle, ti viene fuori una voce molto piana o poi ti viene fuori una voce molto ripetitiva, ecolalica. In realtà la parte più complessa è proprio invece il chi e il come porta avanti quella storia. Ovviamente l'aspetto linguistico è fondamentale. Per me, sia da lettore, che ho una preferenza smaccata per la poesia contemporanea, sia poi anche nella scrittura, mi piace comunque avere più via d'uscita quando si racconta. essere il più possibile evocativo, senza però, ecco la parte più difficile, essere evocativi senza essere enfatici, che è facile cadere nell'enfasi, cadere nel barocchismo, cioè quindi una iperaggettivazione, una iperdescrizione, oppure anche in un processo di scrittura dove tu cerchi di essere molto attento a tanti dettagli e diventi quasi scolastico e didascalico. Quindi il lavoro insomma che c'è stato dietro era proprio quello di creare una voce attendibile che fosse, nella prima parte del libro, molto forse ipotattica, però senza queste cadute, come dire, di essere troppo barocca o di essere troppo didascalica. nella seconda parte, paratattica, ma senza essere estremamente minimalista. Quindi questo equilibrio è stato la parte, dal punto di vista tecnico, secondo me più difficile nella scrittura dispatriatica. Io l'ho tenuto a mente molto di più dei miei romanzi precedenti, perché forse secondo me più col passare del tempo la coscienza linguistica delle persone cambia, più si va avanti, più quella coscienza, anche perché cambia il tuo modo di parlare, cambiano le tue letture, hai più esperienza. Quindi la lingua dei romanzi, non dico che si evolve, però sicuramente si struttura in maniera nuova. Senti, i tuoi protagonisti sono molto, in questo romanzo, ma direi anche nei precedenti, sono molto connotati dal punto di vista generazionale e anche in gran parte geografico. La loro appartenenza ad una precisa generazione e ad una zona di provenienza li caratterizza fortemente il loro modo di pensare, di sentire. Sono, diciamo, in un certo senso tipici esponenti della loro generazione. Direi in tutto, fuorché nell'aspetto linguistico, i tuoi protagonisti, i tuoi personaggi, non parlano, parlano un italiano letterario, parlano, si esprimono in un italiano standard, quindi non portano i segni linguistici della loro generazione e pochissimo della loro provenienza. Questa è una scelta precisa, diciamo, di non far entrare il registro colloquiale più di tanto nella narrazione? Ma, allora, nel caso della protagonista femminile, lei ha proprio un imprinting linguistico super letterario, tanto letterario che lei ha come riferimenti continuamente rimandi ai poeti contemporanei, soprattutto ai poeti pugliesi, nonché, infatti, alla fine del libro c'è quella stanza degli spiriti, che è quel capitolo che guida, che serve anche a muoversi attraverso le tante citazioni che ha fatto soprattutto Claudia nel corso della storia. Ovviamente, secondo me, si creava qualcosa di straniante nei dialoghi dove c'è una persona che parla in quel modo. Secondo me il modo migliore era che Francesco avesse invece un linguaggio standard italiano, italiano, quel poco di dialetto che c'è viene sempre protetto. Ecco, il dialetto degli spatriati non è mai o è protetto con la definizione all'inizio del capitolo dove si capisce che cos'è quella parola, oppure quando appare una parola dialettale, quella parola dialettale non c'ha la nota che ti dice che cos'è, ma viene inserita in un contesto eh di di comprensione, quindi questo è un piccolo escamotage, come l'escamotage della della prima persona del romanzo che in molti casi sembra una terza persona solo perché abbiamo tanti dati, tanti aneddoti, tante telefonate, tante mail, tante lettere della di Claudia e quindi quella prima persona sembra anche una terza persona. quindi questo processo attraverso questi escamotage avviene anche nell'uso della lingua. Senti ma la la questa letterarietà diciamo del linguaggio di Claudia non è tipico, non è molto tipico della generazione alla quale appartiene eh diciamo sì no infatti c'è una assolutamente ma infatti non volevo scrivere di di riferimenti ad autori che diciamo difficilmente una persona della sua età ha ha letto eh hai hai voluto farne una portatrice diciamo di interesse per la letteratura in maniera marcata? Beh sì uno nel romanzo lo scrive eh allora io ho un'idea non volevo scrivere un romanzo generazionale anzi eh il romanzo generazionale eh ci fu una polemica anni fa sul romanzo generazionale che mi divertì molto rileggerla ovviamente dopo perché all'epoca non ero nato insomma però negli anni settanta e poi negli anni ottanta ci fu questa polemica che cos'è il romanzo generazionale e eh sia prima Pasolini e poi Enzo Siciliano Alberto Moravia disse romanzo generazionale dove c'è uno che di che parla a nome della sua generazione e ce ne sono tanti libri che hanno fatto questo insomma negli anni settanta e ottanta soprattutto ma poi c'è una addirittura libri che dichiaravano questo nel titolo per esempio il vogliamo tutto di Balestrini oppure i cani sciolti di eh Renzo Paris che è diverso dal romanzo di formazione che è a cui fosse in qualche modo spatriati assomiglia di più cioè un romanzo dove ci sono delle vicende personali che evolvono la psicologia e la personalità dei eh protagonisti di mh di questa storia ma non volevo raccontare la storia di due rappresentanti della generazione anche delle generazioni proprio perché io penso che mh tutti siano romanzi generazionali ecco come dire un romanzo è scritto perché comunque si parla di persone nate in un certo periodo storico dove ci sono degli oggetti generazionali di riferimento che sono atti collettivi eventi storici canzoni libri che segnano quella generazione ma non necessariamente tutte le persone che che appartengono anagraficamente a una generazione sono persone che si riconoscono in quegli oggetti generazionali quelli ci possono servire a indicare una linea di massima questo lo diceva un grande psicologo come Christophe Bollas che ha scritto essere un carattere che è un po' uno dei libri più importanti sulla coscienza generazionale come su questi aspetti influiscano nella vita eh di di tutti noi quindi però in un romanzo io credo molto nell'utopia del romanzo cioè uno cerca di raccontare anche un po' il sogno un sogno cerca anche di raccontare eh una un desiderio di di dar forma delle storie che vengono a quel desiderio da quella e da quella forma quindi non non è non è una fotografia della realtà ma è una fotografia che trasfigura la realtà in questo senso non non ti interessa mi pare di capire la dimensione del mimetismo linguistico eh cioè non necessariamente i personaggi devono essere anche portatori di tic linguistici o di abitudini linguistiche che connotano il loro gruppo generazionale o sociale non 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 hai molto interesse per l'ingresso del della dimensione parlata nella letteratura come la vedi come la consideri in generale questa tendenza che pure è piuttosto presente nella letteratura italiana contemporanea non assolutamente assolutamente ma è un io non da lettore eh in questo caso anche da scrittore eh mi piace più a sentire la voce dell'autore piuttosto che il suo modo il suo cercare di adeguarsi a un a un linguaggio che già esiste a cercare di agganciare in qualche modo un io vorrei da lettore da scrittore voglio essere tradito e voglio dire e secondo me poi alla base anche di qualcosa che poi ti porta anche a sviluppare qualcosa che non è ancora stato scritto in una strada un po' diversa o a come è successo per spatriati che ha avuto la fortuna di di introdurre una parola che non esisteva che adesso è entrata diciamo quest'estate della Triccani l'ha anche inserita nella come neologismo e è un po' il polutropia degli scrittori cioè quella di innovare o di inventarsi una eh una lingua nuova o comunque anche semplicemente una parola beh del resto la lingua evolve così per immissioni eh a volte anche casuali o o fortunate o o o eh in un in un tessuto lessicale che in genere abbastanza disposto ad accogliere almeno in certe fasi diciamo dell'evoluzione culturale senti come definiresti lo stato di salute dell'italiano letterario oggi? Ma secondo me in grande evoluzione eh lo definiamo una febbre di crescita come si diceva quando tu avevi la febbre e non si capiva che se era un'influenza qualche altro virus e diceva sta crescendo quindi sicuramente alla febbre perché sta crescendo sta eh sta aumentando il suo potenziale lui io lo vedo soprattutto nella poesia nella poesia c'è c'è più coraggio che nella narrativa nella narrativa appunto questo comunque ricercare in qualche modo il pubblico e ricercare la rassicurazione del pubblico a volte si 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 paradossalmente la 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 lingua si si abbassa le strutture sintattiche sono diventano più elementari ehm c'è una polemica in questo momento nella non che c'è una polemica c'è un dibattito cioè che eh sulla narrativa per esempio sugli editing normalizzanti cioè sul fatto che eh molte case editrici magari hanno degli editor molto bravi che però come dire ehm pubblicano libri di scrittori più o meno della stessa età o comunque dello stesso ehm della stessa generazione insomma che hanno una lingua molto simile molto spesso non è una lingua molto simile dell'autore ma è una lingua molto simile come dire lata dalla discussione dal lavoro col proprio editor e quindi con una semplificazione della della propria lingua per essere appunto per poter raggiungere maggior numero di lettori possibili esiste questo dibattito eh però ci sono anche scrittori più diciamo che sono invece più attenti anche a delle forme linguistiche più complesse però nella poesia secondo me si usa di più proprio perché c'è questa meno c'è meno ansia di inseguire il pubblico c'è meno ansia di ottenere eh un riconoscimento immediato dei lettori e probabilmente se noi dovessimo vedere dove l'italiano letterario porterà insomma i suoi frutti io come sempre parto sempre dalla lirica dalla poesia italiana. Sì penso sono d'accordo con te che nella poesia forse si assiste ad episodi di innovazione linguistica più audaci ma anche perché la poesia è per sua definizione almeno la poesia dal dal novecento in avanti è per sua definizione un terreno in cui questa libertà linguistica si è esercitata più ampiamente che non eh che non nella prosa e dunque ritieni che la letteratura abbia ancora un ruolo privilegiato nella nella definizione di una norma linguistica oppure ha perso diciamo questo primato e adesso sono altre le fonti che stabiliscono la norma. Eh guarda io vorrei credere che comunque c'è sempre la letteratura la base cioè se intendiamo per letteratura non soltanto pubblicato l'edito ma intendiamo come letteratura anche ciò che viene trasmesso via orale ciò che si trasforma con le conversazioni e quindi in qualche modo nasce sempre da un ritmo diverso di una parola o di una storia raccontata o di un verso quindi se invece parliamo dell'edito di quello che noi intendiamo per le letteratura quindi la poesia e romanzi eccetera secondo me ovviamente il processo un po' diverso perché i lettori sono sempre meno però quei lettori servono sempre comunque danno sempre un seme da cui comunque fioriscono eh nuovi modi di nuovi modi di raccontare nuove parole eh nuove strutture anche sintattiche ovviamente. Nella nella tua prosa questa è l'ultima domanda che ti faccio eh nella tua prosa ci sono mh tentazioni poetiche diciamo così ci sono inserti che tu eh volontariamente eh eh fai percepire come 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 inserti poetici te lo chiedo perché a me è sembrato di sì che in qua e là in in alcune frasi ci sia una eh così un un aspetto che più che alla 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 prosa rimanda alla poesia potrei farti qualche esempio ma volevo sapere se questo è se l'ho visto questo se ho visto giusto e se eh è un un tuo mh un tuo procedimento consapevole ecco. Ammetto la mia ammetto la mia tensione poetica e ammetto che come tanti italiani eh che provano a a a scrivere forse poesia insomma che l'endegasillabo scorre nel nostro sangue tutti quelli che tutti gli italiani che leggono e che scrivono eh l'endegasillabo scorre qualche volta qualche volta scorre via si apre la ferita e sfugge e ovviamente ci sono dei momenti in cui la io io sono nato lettore e mh e ho iniziato a scrivere poesie come 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 scrivente e e quindi qualche volta la tensione di raccontare qualcosa segue più un processo lirico che un processo narrativo eh quanto intendo un processo un processo lirico intendo proprio quello che quando prima scherzavo sull'endegasillabo nel senso che sei più attento anche a al suono di quella frase letta ad alta voce dove sto dove ci sono le pause che ritmo ha e eventualmente se dovessi andare a capo dove quella frase si interrompe e dove riprende al al capoverso successivo quindi sono tutte domande che poi poeti invece professionisti grandi poeti si fanno in maniera molto naturale e e forse con meno ehm retropensieri con quali può farlo invece chi sta eh scrivendo un un romanzo un racconto e ovviamente deve tenere presente che a volte queste questi aspetti possono entrare in quel campo di cui parlavo prima dell'enfasi che è molto pericoloso quando si racconta una storia perché poi come dire si allontana dal centro della del del processo narrativo il il focus di quello che tu vuoi davvero raccontare si parlavo di di questo che tu hai adesso così bene spiegato anche di una certa tendenza alla 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 metaforicità che ogni tanto viene fuori in una maniera che che non è la scientifica della prosa ecco e quindi concludo con una citazione da una da una di queste frati che mi hanno colpito che ho trovato nel tuo romanzo e ti ringrazio per queste nostre conversazioni di piume di zucchero e eh grazie grazie a voi dell'invito come sempre e speriamo che ci sia un'altra occasione per per chiederti di nuovo di partecipare alla alla nostra attività grazie volentieri volentieri grazie 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 a voi